Per il loro spettacolo di questa sera a Geox, gli Stomp hanno messo in piedi una conferenza stampa veramente molto particolare. Abbiamo cercato dei pezzi inediti quest'anno per questa stagione, tra cui questa splendida Divina Callas che riviverà dal vivo nell'unica data italiana di questo tour pilota. Con un elemento dal vivo che sono 50 orchestrali che suoneranno dal vivo le grandi aree dell'opera e un ologramma che è in versione completamente realistica della Divina Callas. Callas, Stomp stasera, Callas il... Beh, tra qualche giorno, il 15. Il 15. Buongiorno mattino. Grazie. Ciao.